Beh, se la tecnologia è quella cosa che ci rende la vita un po' più semplice e ci fa risparmiare anche un bel po' di tempo diciamo che in campo audio avevo proprio bisogno di un po' di tecnologia Ciao ragazzi, ciao a tutti e bentornati qui sul canale del vostro Nintendo Ropazzo Oggi siamo qui con questo bello scatolone che andremo a vedere fra pochissime ad unboxare perché come da titolo e copertina oggi andrò a parlarvi, insomma a fare l'unboxing e una mini recensione del mio nuovo microfono che mi sono comprato, della Elgato, cioè il Wave 1 Ma perché ho bisogno di un nuovo microfono? Perché se non lo sapete insomma io per registrare i miei video insomma come quello che state vedendo in questo momento di solito utilizzo questo qui che vedete il microfono navaliere della Rode che è molto buono, infatti insomma sto utilizzando questo perché insomma ce l'ho e va benissimo però il problema si verifica nei voiceover magari durante anche passato sessioni di gameplay oppure anche durante i benchmark dei miei video, magari delle schede video, dei processori insomma avere un microfono buono da utilizzare, da mettere sulla scrivania così che posso fare premere e parlare insomma e già avere sincronizzate le tracce non è per niente male, insomma mi semplifica tanto le cose e mi fa risparire parecchio tempo e quando ho visto questo Elgato Wave 1 in forte sconto perché l'ho pagato 66€ dall'Amazon Warehouse Diaz questo microfono che nuovo costa un centinaio e qualcosa di euro perché in questi giorni ci sono stati insomma il 20% di sconto dall'Amazon Warehouse Diaz da 88€ l'ho pagato una sessantina, 65€ e ho detto secondo me può essere un buon investimento ma prima di continuare col video vi invito come sempre a iscrivervi qua sotto al canale attivando anche la campanella per ricevere tutte le notifiche così da rimanere sempre aggiornati sui video che usciranno e appunto anche così mi date una bella mano a crescere e adesso davvero siamo arrivati al conto alla rovescia per i 1000 iscritti quindi mi raccomando se avete anche amici, conoscenti, parenti che sono interessati potrebbero essere interessati, condividete questo video o il mio canale in generale così arriviamo presto a sti 1000 iscritti e così anche YouTube insomma si dà una svegliata perché l'algoritmo ogni tanto fa un po' le bizze ma al di là di questo vi invito anche a iscrivervi al canale Telegram di offerte che ricordo link in descrizione perché appunto lì passano le migliori offerte di Amazon per quanto riguarda l'hardware e videogiochi ogni giorno ci sono tante offerte davvero molto molto interessanti e quindi insomma essendo gratis fate favore a voi e al vostro portafoglio soprattutto perché se avete bisogno di queste cose andate a risparmiare parecchio e detto questo ecco seguitemi anche su Instagram e vanno alle ciance e adesso passiamo all'unboxing di questo microfono ed eccoci qua ragazzi insomma l'imballaggio di Amazon sempre un po' così aumma aumma però devo dire dalla scatola già si presenta molto molto bene vedete il bollino what else else non so se questa era già presente lo vedete questo bollino qua nel senso non so se l'hanno ripaccato come potremmo dire quelli di Amazon però davvero dalle condizioni anche della scatola sembra nuovo e detto questo appunto adesso andiamo a vedere cosa c'è dentro sta scatola comunque sembra che sia già stato aperto devo essere sincero però comunque è stato veramente imballato molto bene adesso comunque andiamo a vedere se c'è tutto se è tenuto bene e tutto quanto insomma e qui vabbè ci sono delle istruzioni oddio sta roba qua dietro non so bene cosa sia dopo ve la faccio vedere meglio che sinceramente non ho capito bene cosa sia e c'è anche dove andare a installare insomma dove andare a prendere i driver per installare ma insomma sul sito è legato qui dentro questa scatolina qua cosa c'è andiamo a vedere subito forse i cavi probabilmente sì allora eccoci qua abbiamo un cavo USB da tipo A a tipo C per appunto per connettere il microfono e questo è l'imballaggio ah no non è vero che c'è qua dentro si stavo per mettere via allora qua dentro c'è questo che credo sia un adattatore per infilare poi il microfono sulla sua base ma non vorrei dire una cavolata comunque tutto in metallo credo sia alluminio ok dopo vediamo insomma come applicarlo tornando qua allo nostro scatolone vediamo cosa c'è eccoci qua qui c'è ovviamente il pezzo forte cioè il microfono che sembra essere già montato forse era già montato di suo ma adesso già si sente dalla base che c'è un bel peso diciamo qui ecco c'è l'altro bollino che comunque no era usato però comunque insomma l'ha ripaccato bene diciamo allora oila eccoci ed eccoci qua ragazzi con il microfono e il gatto secondo me si presenta benissimo e anche la base davvero è solida pesante sotto è gommata quindi insomma non rieschia di scivolare via ecco qui abbiamo il pulsante questo credo per accenderlo anche poi per regolare questo credo sia per regolare il volume qua dietro invece troviamo le le uscite le prese insomma per gli auricolari se vogliamo ascoltarci mentre parliamo dentro o e anche insomma il collegamento per il computer per registrare poi effettivamente con l'usb tipo c ovviamente poi ci sono queste due vitine laterali che se le svitiamo rendiamo più libero il microfono in questo modo e così ci regoliamo l'altezza diciamo così e poi se ci va bene così chiudiamo per esempio e così insomma poi questo non si muove teoricamente poi si potrebbe agganciare quell'altra cosa che però uno va a avvitare questo e se c'è il bastone lo attacchi così io non ho nulla di tutto ciò quindi insomma questo qui adesso non ci serve ecco questo pezzetto qua però magari in futuro dovessi comprare un'asta un qualcosa questo qui torna utile quindi buono ad averlo e niente qui adesso vado a rimontare tutto ok ragazzi allora per l'unboxing è tutto è davvero devo dire già così io sono veramente impressionato per la qualità di questo microfono esteticamente parlando ovviamente ma anche come materiali davvero sia il microfono in sé ma anche la base soprattutto davvero che non si smuove sotto che è tutto gommato però veramente è solidissima diciamo insomma si vede insomma che già da così sembra un buon microfono ecco quindi detto questo non ci resta altro che testarlo e fare un po' di prove e vedere come si comporta appunto con quello che effettivamente deve fare cioè registrare e detto questo insomma noi ci becchiamo fra pochissimo che vi faccio sapere un po' cosa ne penso ovviamente dopo i test che vi farò ascoltare adesso ed eccoci qua ragazzi con il nostro microfono Elgato Wave 1 e adesso appunto lo proviamo parliamo un pochino vediamo un po' cosa cosa poi ne esce fuori se si sente bene o meno sarete anche voi a dirmelo poi qua sotto nei commenti e adesso poi lo andiamo a confrontare con il classico microfono lavaliere che utilizzo sempre diciamo che non mi ha mai tradito ecco però secondo me questo qui sarà meglio però insomma andiamo a scoprire adesso e invece ragazzi questo è l'ormai famosissimo microfonino lavaliere della Rode di cui ho qui la la sua custodia diciamo e niente questo è l'audio credo che abbiate sentito probabilmente cioè in ogni mio video alla fine utilizzo sempre questo quindi non è una grossa novità però vi ripeto come ho detto nella intro diciamo all'inizio del video e sì fare registrare con questo è un po' una scocciatura se devo fare delle robe insomma dei voice over così come quello che state sentendo in questo momento perché poi la traccia che registro non con il computer perché non funziona sull'attacco direttamente al computer oltre al fatto che il cavo è anche abbastanza corto ma appunto la traccia registrata col cellulare che ho qua sotto devo poi andarla a sincronizzare con il video cosa appunto non semplice e che appunto mi porta via sempre un pochino di tempo quindi ecco niente questa era la qualità del video adesso direi di passare un po' alle conclusioni ed eccoci qua ragazzi davvero io sono contentissimo nella qualità dell'audio che è finalmente un cavolo di microfono per computer che insomma mi funziona veramente con una qualità audio che per me almeno è eccellente perché per carità in passato appunto ho usato microfoni appunto integrati nelle cuffie o microfoni da 30 euro microfoni cinesi questo qui effettivamente cioè si vede e si sente diciamo che insomma una spanna è anche di più sopra tutti questi altri ma giustamente anche perché insomma se no il prezzo non era abbastanza giustificato quindi davvero comunque ci tengo a dire che questo video non è in alcun modo sponsorizzato dall'elgato perché appunto io ho bisogno di un microfono me lo so comprato con i soldi miei ma al di là di questo devo dire che davvero secondo me questo è un ottimo microfono davvero poi se pagato a questa cifra secondo me davvero non ha troppi rivali diciamo io non sono un grandissimo esperto di microfoni però devo dire che su questa fascia di prezzo appunto non ce ne sono chissà quanti e soprattutto quelli che ci sono più economici non arrivano di certo a questa qualità insomma audio per fare una recensione più che altro soggettiva più che oggettiva perché una recensione oggettiva la fa chi appunto col suono ci lavora insomma sa benissimo ogni modello ogni aspetto tecnico io appunto mi limito a dirvi se mi sono trovato bene o meno se appunto ne è valsa la pena e ma sicuramente ci saranno altri modelli validi intorno a questa cifra però devo dire per la mia esperienza che con questo microfono con questo modello in particolare davvero mi ci sono mi ci sto trovando molto molto bene quindi preparatevi in futuro nei prossimi benchmark di schede video e magari gameplay futuri streaming vedremo insomma che appunto ci sarà questo microfono perché me lo tengo davvero stretto e arrivati a questo punto io ragazzi vi lascio con due video che vi consiglio se non avete visto e che secondo me vi possono interessare uno registrato più di un anno e mezzo fa però ancora valido è quello sul microfono Tonor TC777 che avevo comprato pagandolo meno di 30 euro adesso non mi ricordo tipo 25 20 euro una roba del genere e invece come secondo video se ve lo siete perso quello sulla mia postazione sulle mie postazioni di registrazione così vedete insomma un po' il backstage insomma di tutto il bunker del nintendo ropazzo e non solo che ho registrato appunto questa estate detto questo io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video e noi come sempre ci becchiamo alla prossima ciao a tutti ragazzi ciao a tutti